Ciao, sono Fabio Varesano e in questo video vi mostro il mio primo volto con il mio primo quadcopter Qui c'è il quadcopter e lo vedete c'è tutto qui l'AMU FRIIMO 0.3 FRIIMO 0.5 è montato qui e questo è il primo volto tutto sembra bene nel MULTIWIG GUI e vediamo se questo volto o non ok ok sembra che ho avuto qualcosa di vero con le connessioni motore ora sembra essere bene e vediamo cosa succede ora qui 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 è qui 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 Grazie a tutti. 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 Piano, piano, non sto dietro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.